I cani sono stanchi, rientriamo alla base. Ehi, ciao! Allora, com'è andato? Vuoi un whisky? Che whisky? Beh, mettiamo alla prova l'intenditore. Indovina. Ah, allora è una sfida. È il mio preferito. È Glenn Grant. Glenn Grant, colore chiaro, gusto pulito. Glenn Grant, nella nuova confezione speciale per un regalo da intenditore.